Grazie, Stefano ha appena spiegato una delle ragioni per cui abbiamo fatto questo incontro e la ragione per cui ho scelto di parlare del cortigiano di Baldassar Castiglione, però vorrei partire proprio da questa immagine che tutti avete sotto gli occhi. Questo è il ritratto fatto da Raffaello tra il 1515 e il 1516, il ritratto che oggi sta a Louvre, ed è stato realizzato proprio a Roma. Quando appunto Raffaello stava a Roma, sebbene avesse conosciuto Baldassar Castiglione a Urbino, che la loro amicizia nasce intorno al 1504, quando appunto Baldassar Castiglione approda ad Urbino. E comunque questo ritratto, come vedete, è strepitosamente bello. Per quale motivo? Ecco, guardiamolo bene attentamente. Come vedete, la luce di questo ritratto viene dall'alto, da sinistra, e il busto infatti è a sinistra, come vedete. Il volto è di tre quarti, è quasi frontale, è quasi frontalmente rispetto a noi, no? Lo sguardo invece va a destra e oltre in un certo qual modo chi osserva l'opera. L'espressione è sicura, è un'espressione intelligente. L'abbigliamento è certamente ricco, guardate gli inserti di pelliccia, guardate l'elaboratissimo cappello alla moda, con i tagli, come si faceva proprio in quegli anni, e poi questo fazzoletto bianco, o camicia, insomma, che mette in evidenza appunto la linea curva della barba. E lo sguardo, che secondo me è uno degli elementi che dovrebbero attirare la nostra attenzione, d'altra parte vedete che l'impianto è una piramide compositiva, no? Quindi è chiaro che salendo ci concentriamo sullo sguardo, è uno sguardo meditativo, uno sguardo colto, da cui traspare una eccellente, direi, dignità. Questo è l'autore del corteggiano, opera capolavoro, opera mondo, come si dice, uscita appunto nel 1528. Raffaello che cosa ha fatto con questo ritratto? Ha fatto certamente un'indagine psicologica. E lo vediamo appunto, vi dicevo, da questi elementi, dallo sguardo, dell'espressione, e soprattutto vedete attentato, riuscendoci, una idealizzazione della fisionomia. Perché, come vedete, se guardate attentamente, in fondo il personaggio non ha età. E c'è una tensione, come di questo, anche grazie ovviamente alla tecnica dello sfumato, che Raffaello aveva imparato da, aveva preso da Leonardo, eh. Vedete, no? Quindi le rughe, le, eh, sono tutte, come dire, non si vedono, non ci sono, no? Proprio questo. Allora dicevo, ecco, questo ritratto incarna l'ideale di perfezione estetica e spirituale della cortigianeria. Ed è, in un certo qual modo, un'espressione, secondo me, parlante proprio del nostro rinascimento maturo. Ora, Raffaello e Castiglione, ripeto, erano amici, tanto che la famosa lettera a Leone X, quella dove si parla del patrimonio di Roma, eccetera, l'hanno scritta a quattro mani proprio, no? Quindi lavoravano insieme da questo punto di vista. Erano amici di un'amicizia che era stima reciproca, un'amicizia che era condivisione, tanto che Raffaello è presente anche in un passo del cortegiano, insomma, eh. Ora, guardate però l'elemento che secondo me è ulteriormente interessante, è che vedete che in qualche modo Baldassare Castiglione cerca con lo sguardo una sorta di tacita intesa con noi. Come, guardate, uno sguardo che rifugge da ogni forma di affettazione, uno sguardo che non è, cioè uno sguardo come dire, che non è affatto fasullo, ecco, insomma, non è uno sguardo artificioso, ma è invece esattamente con una espressione, ci manda, ci restituisce un'espressione di, come dire, di disinvoltura, no? Di chi però ha, appunto, lavorato, ha studiato, si è fatto da solo, diciamo così, eccetera, e però, appunto, in un certo qual modo non ce lo fa capire perché c'è una non curanza di fondo, ecco. Questo è un uomo sicuramente colto, un uomo che ha, come dire, appunto, che ha lavorato, che ha, appunto, vi dicevo, che ha faticato, ecco, insomma, no? E che, appunto, non è, però, non tutto questo dal, come dire, non traspare, no? C'è come una noscialanza, no? Nel suo modo di essere, di stare, vedete, che è, appunto, la non curanza per la perfezione, eh? Ecco, allora, dicevo, Raffaello probabilmente è stato l'allievo migliore, come qualcuno ha detto, di Baldassar Castiglione, perché Raffaello fa sembrare semplice, leggero, eh, vedete, no? Guardatelo attentamente, eh, un lavoro che è, invece, un lavoro di indicibile fatica, quello di, appunto, della, di, di questo ritratto, no? Che è il lavoro che c'è voluto per fare questo ritratto. Allora, eh, perché dico che Raffaello è, perché, eh, probabilmente, appunto, no, probabilmente, con molta, lo posso dire, con molta sicurezza, Raffaello ha accolto, ecco, le indicazioni di Baldassar Castiglione, eh, e ha condiviso con lui, appunto, un percorso, no? Entrambi, eh, venendo, appunto, da, mh, anche se Baldassar Castiglione è nato a Mantua, però, di fatto, poi, la, la svolta ce l'ha avuta nel momento in cui ha portato a Urbino, da Guidubaldo di Montefeltro, insomma, quindi, da lì è cominciata, poi, tutta la sua storia di ambasciatore, è già iniziata prima, eh, di ambasciatore, di uomo d'armi, eh, di intellettuale, grandi maestri avuti nella sua formazione, conosceva perfettamente il latino, il greco, cioè, insomma, no? Ecco, quindi, un uomo che si è fatto, veramente, no? Attraverso la conoscenza, lo studio, l'applicazione, eccetera, fino a diventare, poi, nel 1513, conte di Novilara, eh, che è un castello che sta nella zona di Pesaro, e, eh, conte di Novilara, come, e poi nunzio apostolico, eh, presso l'imperatore a Madrid, dove, appunto, poi è morto nel 1529, e, eh, e oggi è svezzo e volto a Mantua, insomma, no? Ecco, una, eh, autore, appunto, vi dicevo, di questo libro, che è, appunto, il Cortegiano. Il libro esce nel 1528. Ora, mh, non vorrei, eh, però è interessante questa storia, perché ci dà un po' le ragioni per cui ancora oggi dovremmo avvicinarci a questo libro, no? Andando a cercare qualcosa che magari è diverso da quello che ci andavano a cercare, che andavano a cercare i, eh, i contemporanei, insomma, così, o quelli anche che hanno vissuto tra il cinquecento e il seicento, ecco. Allora, dicevo, il libro esce nel 1528, a, mh, per i tipi di Aldo Manuzio, che era uno dei più grandi stampatori italiani, direi europei, e, ma nasce dopo una lunga, come diceva Stefano all'inizio, una lunga redazione, una grande, ci è voluto tanto per farlo, ecco, Castiglione ci ha messo tanto, ci abbiamo una prima redazione, che risale al 1518, in quattro libri, poi con una dedica al re cristianissimo Francesco Primo, poi una seconda redazione, tra il 20 e il 21, in tre libri, una terza redazione nel 24, insomma, un travaglio lunghissimo, ecco, questo è un libro che ci ha avuto un travaglio lunghissimo. Qual è l'elemento, anche qui, interessante? Esce nel 1528, Baldassar Castiglione muore l'anno dopo, non potendosi, come si dice, godere, no, la gloria e la fama, insomma, legate a questo libro, che diventerà veramente, che è diventato subito un bestseller, un'opera capolavoro. Perché ve lo dico? Perché in mezzo secolo, pensate, solo in mezzo secolo si sono avute 60 edizioni, che è una cifra, per quei tempi, altissima. Nel 1500, era il libro uscito nel 28, nel 34 era già stato tradotto in spagnolo, nel 37 in francese, nel 61 in inglese, e nel 63 in tedesco. Quindi un libro che ci ha avuto una circolazione immensa, un libro che ha letto Shakespeare, che ha letto Corneia, un libro che ha letto Cervantes, Cervantes, cioè, come dire, un libro che ci ha avuto una, dicevo appunto, una circolazione immensa, ok? Immensa, un grande, veramente bestseller. Perché tutto questo? Perché? Che c'è di così? Allora, apparentemente, è un libro che ci parla del comportamento. È una sorta di manuale, no? Un manuale. D'altra parte, non ci dimentichiamo che Valdassar Castiglione era di origine mantovana, e nel Rinascimento padano, mantovano, insomma, la manualistica aveva avuto una grande fortuna. Perché? Perché c'era stata proprio una, una civiltà lì che proprio era estremamente tesa proprio, no? Questo, all'attenzione applicativa proprio, no? Ecco, i manuali servivano esattamente... È una terra che ha prodotto molti codici di comportamento, con regole, di buona condotta, eccetera, eccetera. Proprio perché è un po' una delle caratteristiche di questo rinascimento padano. Dicevo, qual è l'elemento che ancora oggi, in un certo qual modo, no? Ci riguarda, in qualche modo, è che si parla, e questo lo diceva Stefano all'inizio, no? Cioè, qui quando si parla di una persona, in questo caso del cortigiano, che è un gentiluomo, no? o quando si parla della donna di palazzo, nel terzo libro, che è la gentildonna, quello che veramente ci deve colpire, secondo me, è l'idea della integrità della persona. In questo senso, cioè, c'è, noi abbiamo, come dire, no? Una dimensione esterna, è il nostro abbigliamento, sono i nostri gesti, i nostri comportamenti, eccetera, ma questi sono connessi, indissolubilmente, a quello che c'è dentro di noi, che può essere la serenità, l'equilibrio, l'armonia, la, come dire, il senso della misura, eh, questo è, secondo me, no? Il grande punto di forza, secondo me, e secondo tutti quelli che hanno studiato il cortigiano, insomma, no? Il grande punto di forza di quest'opera, e cioè, trasuda ad umanità, e di quell'umanitas, che era proprio del nostro umanesimo, insomma, così, e, e che appunto, crede fermamente nella educabilità della persona, nell'educabilità dell'individuo. Quindi, è un'opera, da questo punto di vista, bellissima, proprio perché, cioè, l'uomo è proprio una, rappresentato come una sintesi splendida, di arte, scienza, religione, e, in una dimensione che è appunto quella dell'integrità, un uomo nella sua integrità, quindi esterno, interno, e, che sono fortemente uniti, e questo anche la donna, chiaramente, appunto, e l'idea è quella appunto di un dialogo. Tutto avviene in un salone, nel palazzo di Urbino, e non so chi di voi sia stato, a vedere appunto il palazzo ducale di Urbino, nella sala di rappresentanza, la sera, si tenevano appunto questi che loro chiamavano intertenimenti, cioè, intrattenimenti notturni, diciamo così, dove tutti i gentiluomini, gli intellettuali della corte, gli artisti, eccetera, anche alla presenza delle donne, in particolare appunto della Gonzaga, e di Elisa Pio, insomma, queste donne che, conversavano, ecco, la sera si conversava, questa forma di intrattenimento, e allora, che cos'è il corteggiano? È un dialogo, è un dialogo alla maniera dei dialoghi socratico-platonici, quindi, insomma, alla maniera dei dialoghi di Cicerone, no? Insomma, ecco, è un dialogo dove intervengono alcuni personaggi, su, un dialogo su che cosa? Sul perfetto cortigiano. Chi è il cortigiano? Ecco, è il nobile che appunto vive a corte, è il nobile che si è fatto cortigiano, ecco, che noi oggi diciamo cortigianeria, però Baldassar Castiglione dice corteggiania, ecco, la chiama la corteggiania. Allora, c'è, è diviso in quattro libri, nel primo libro si parla appunto delle qualità fisiche e morali del cortigiano, nel secondo, di tutte le circostanze in cui il cortigiano deve dimostrare le sue virtù, le sue capacità, diciamo, nel terzo si parla della perfetta donna di palazzo, e c'è una grande novità anche qui, perché c'è una direzione che è quella della perequazione dei sessi, quindi questa è un'interessantissima direzione, per cui c'è una rappresentazione della gentildonna, che è veramente interessante da questo punto di vista, perché apre poi su una generazione di donne che arrivano appunto, che cominceranno a scrivere, che si fanno scrittrici, anche sulla base del pedarchismo imperante, si fanno scrittrici, che fanno, scrivono trattati, insomma, veramente è una rappresentazione veramente interessante, no? Di questa appunto gentildonna, e poi nell'ultimo libro, nel quarto libro invece si parla del rapporto tra principe e cortigiano, e nell'ultima parte c'è proprio l'elogio dell'amore spirituale, che conduce alla conoscenza appunto del sommo bene, no? che poi tra l'altro è tutta un'apoteosisse che fa appunto Bembo. Allora dicevo, no? In fondo, adesso analizzarlo sarebbe complicatissimo, nel senso che richiederebbe un sacco di tempo, però, e poi insomma è anche un'indagine piuttosto complicata, però io invece volevo evidenziare alcuni elementi, che secondo me ancora oggi, e anche sulla base di quello che si diceva all'inizio, ancora oggi possono essere per noi di grande, veramente, oggetto di riflessione, ecco, di una riflessione seria, insomma, da questo punto di vista, no? Allora, questo è stato un libro, un libro che è stato definito, uno dei primi grandi libri europei moderni, e un libro, come dire, dove c'è una, tutta una questione linguistica, che adesso trascuro, perché sennò sarebbe lunghissimo, ed è un libro che, appunto, vi dicevo, apparentemente, si risolve come un, dentro il grande contenitore della letteratura di comportamento, no? Quello che bisogna fare, che cosa è bene fare, tipico della manualistica, insomma, ecco, questa cosa qua. In realtà, ecco, che cos'è invece, no? Ecco, qui io su questo, allora, vi dicevo, è una forma, è un dialogo, no? È un dialogo che io definirei euristico, cioè, è un dialogo di ricerca, e di approdo, anche se approdo mai definitivo, no? Di che cosa? Cioè, come dire, che parte dalla constatazione che in natura esiste una infinita varietà, è una infinita varietà che in natura c'è la difformità, che esiste la molteplicità, che esiste la contraddizione, noi stessi siamo, noi uomini, siamo rappresentati nel libro, dalla gioventù fino alla vecchiaia, dalle armi all'amore, dall'arte, la musica, la letteratura, fino appunto alla, ehm, ai comportamenti più, come dire, più spiccioli, più quotidiani, eccetera, siamo totalmente rappresentati, no? Nella nostra infinita varietà. Allora, qual è il fine che Baldassar Castiglione, credendo nella, come vi ho detto, nella educabilità dell'individuo, eh, credendo che sia possibile, che l'individuo sia, eh, educabile, ecco, e vi ricordo che, diciamo, queste sono nel rinascimento padano, e, e anche alla corte urbinate, insomma, eh, c'era grande fiducia nell'educazione, eh, c'era già una sviluppata trattatistica, sull'educazione, sull'educazione dei figli, l'educazione, eh, nell'età adolescenziale, insomma, devo dire, c'era un grande lavorio, da questo punto di vista, eh, allora dicevo, qual è il fine che si pone Baldassar Castiglione? Quello di formare un ideale esemplare umano. Questo è quello che lui si pone come fine, un ideale esemplare umano. Quindi, in una corte, che chiaramente è una sorta di corte teatro, d'accordo, ma d'altra parte, lo stesso mondo è teatro, no? Quindi non è che, la corte non è che, per fare che cosa? Perché un ideale esemplare di uomo? Ecco, io lo dico in maniera molto semplice, per rendere, per, per creare una realtà migliore, per fare il mondo migliore. e questo, mh, spero che non vi sembri riduttivo, però, in realtà, io credo che ci sia, esattamente, questa tensione, che muove, eh, un po' tutte le pagine di questo dialogo, no? Tra questi intellettuali, nobili, aristocratici, eh, che si ritrovano, appunto, la sera, in una sorta di gioco, appunto, di intrattenimento, in cui parlano, appunto, del perfetto cortigiano, e, però, appunto, Baldassar Castiglione, supera, ecco perché è un'opera capolavoro, perché supera, lo steccato, del semplice manuale, eh, con le norme, le regole, le maniere buone o cattive, le maniere buone da tenere, le cattive da, non è così, cioè, le supera in che senso? Nel senso che c'è in lui una direzione che è assolutamente anti-retorica e anti-formalistica, cioè, non è, eh, noi ci abbiamo, no? Quando parliamo di, di quest'opera in generale, pensiamo sempre, no? Ai soliti stereotipi, quelli più triti, no? L'aristocratico che, eh, finge, non lo so, insomma, no? Di essere sempre, così, misurato, eh, che, artefatto, eccetera, ecco, non c'è per niente, questa cosa non c'è per niente, è venuta poi nel tempo, quando l'abbiamo letta, io mi ricordo che De Santis, eh, vi ricordate, no? Che è il nostro autore della storia, della letteratura italiana, ecco, De Santis dice cose nella sua storia della letteratura a proposito di Castiglione, dice, scaduto ogni sentimento religioso, morale e politico, l'onore rimaneva senza base e non aveva serbate che alcune delle sue qualità superficiali e più brillanti che solide, di cui si vede il codice nel cortigiano del Castiglione. vedete che c'è un un giudizio terribile, diciamo così, no? Che sono appunto un giudizio in cui in pratica eh di di decadenza, di declino, è scaduto, dice, dice De Santis ogni sentimento religioso, morale, politico, eccetera, no? e e c'è un'idea insomma, no? Di un mondo che è quello appunto il mondo delle corti, no? Il mondo della cortigiania, della cortigianeria che mh è come dire, no? Rappresenta poi da lì, da quel momento in poi la società d'antico regime che poi dovrà essere liquidata chiaramente. Ebbene, allora il giudizio, dicevo, di De Santis in qualche modo, no? Eh ci fa un po', mh ci condiziona, ecco insomma, no? Perché eh sembrerebbe appunto, no? Che qui si parli del decoro, che si parli del, come dire, no? Della eh di una sorta di, come dire, eh di costruzione di sé, dell'artificiosa appunto, ecco questo. E invece no, ricordate il quadro che abbiamo visto, il ritratto che abbiamo visto, che è quel ritratto di Baldassare Castiglione fatto appunto da Raffaello. Perché dico, ricordiamoci quel ritratto? Perché lì c'è appunto, esattamente quello che Baldassare Castiglione intendeva fare con il suo, con questo libro che c'ha avuto un, vi dicevo, un lunghissimo travaglio redazionale, eccetera, insomma, no? Qui c'è dietro appunto, dicevo, c'è il desiderio appunto di un, di arrivare in qualche modo a confrontarsi sinceramente con la varietà, con la, la difformità, la molteplicità, la contraddizione, eccetera, che regola in qualche modo la vicenda degli uomini. È un libro dove ci sono sotto, si manifestano chiarissimamente, tensioni, lacerazioni, paure, che sono anche legate al nostro rinascimento, chiaramente. vi ricordo che nel 1527, cioè esattamente l'anno prima è stato il sacco di Roma, non è che non è una cosetta così, insomma, è la discesa di Anzichenecchi, ci abbiamo avuto la, la scissione, la riforma protestante, cioè insomma, è un periodo, diciamo, no? Del nostro rinascimento maturo, eh, difficile dal punto di vista politico, anche dal punto di vista sociale, insomma, ci sono tante, tante difficoltà, insomma. Allora, Baldassar Castiglione recupera la forma del dialogo in una dimensione che non è più quella, chiaramente, del dialogo, cioè del dialogo che viene chiaramente dalla tradizione classica, quindi che passa per Platone, dicevo, di tradizione socratico-platonica, poi per Cicerone, eccetera, e però lo recupera perché crede che il dialogo non sia adesso, non abbia più solo e semplicemente, no? Oppure se volete, insomma, la funzione di pervenire a una verità. Quello che a lui interessa è che il dialogo sia una forma di, come dire, di civile conversazione tra gli uomini che si sono ritrovati, gli uomini che si sono ripresi quello che era loro, e quindi il dialogo diventa uno strumento attraverso il quale confrontarsi, attraverso il quale, come dire, anche scatenare conflitti, ma per trovare poi una soluzione. Il dialogo diventa l'espressione di questa civiltà, no? Che è appunto questa civiltà delle corti, poi, che poi degenererà, lo sappiamo tutti, no? Pensiamo alla rivoluzione francese, eccetera. Però, il dialogo che diventa una opportunità di confronto tra le persone, tra gli uomini e le donne, chiaramente, no? Questa è una cosa straordinaria, perché ci dice che c'è, come dire, il desiderio, no? Oggi diciamo di un nuovo inizio, cioè di una civiltà nuova, ecco, che si fondi sul confronto, che si fondi sulla, come dire, no? Sulla, non sulla, come dire, no? Sul dogmatismo, eccetera, ma invece, no? Che vada verso, invece, una, come dire, appunto, un confronto costruttivo. Ecco, questo è quello che è bellissimo, secondo me. Allora, io ho isolato queste tre espressioni, no? Che sono la sprezzatura, la grazia e il buon giudicio. Ok? Allora, perché lo isolate? Perché queste sono, in fondo, le tre parole chiave di tutto il dialogo, di tutta l'opera, eh? Le tre parole chiave, ok? Ora, la parola sprezzatura è una parola per, che, diciamo, che non ha, diciamo, è un neologismo, se volete, di, dal San Castiglione, però è una parola, diciamo, tributaria della tradizione classica, insomma, no? che cosa vuol dire la sprezzatura? Che significa la sprezzatura, no? Che per noi oggi, no? Dire sprezzante, avere un atteggiamento sprezzante, per noi oggi c'è un connotato negativo, d'accordo? Essere sprezzanti vuol dire non avere, no? Adeguata, come dire, adeguato riconoscimento in determinate situazioni, verso l'altro, eccetera. la sprezzatura che cos'è invece per Badassar Castiglione? Vi leggo soltanto un pezzettino, ma proprio due righe, dal primo libro che parla chiaramente è Ludovico di Canossa e dice, a proposito appunto del cortigiano, fuggire quanto più si può e come un asperissimo e pericoloso scoglio l'affettazione e per dir forse una nuova parola usare in ogni cosa una certa sprezzatura che nasconda l'arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi. Da questo credo io che derivi assai la grazia perché delle cose rare e ben fatte ognuno sa le difficoltà onde in esse la facilità genera grandissima maraviglia e per lo contrario lo sforzare come si dice di rapere i capelli da somma disgrazia e fa stimare poco ogni cosa per grande che la sia. Però si può dire quella essere vera arte che non pare essere arte né più in altro sia da poner studio che nel nasconderla perché se è scoperta leva in tutto il credito e fa l'uomo poco estimato. Allora che cos'è questa sprezzatura? È quello che abbiamo visto nel quadro fatto da Raffaello. È il difficile nel facile è come dire l'arte che cela l'arte l'arts eh no come era nella tradizione classica arts celare artem cioè è la naturalezza è la disinvoltura è quella sorta di garbata non curanza eh che come dire che è frutto di studio e di tecnica ma che rimanda alla naturalezza appunto e alla spontaneità che cos'è perciò questa come dire questa sprezzatura no? Non c'è assolutamente nessun connotato negativo è questa capacità appunto allenata di eh come dire no? Di eh di non non essere mai di non cadere mai nell'ostentazione da una parte e nell'eroneia dall'altra cioè nell'ironia nel senso della nella squalificazione diciamo dall'altra no? Né ostentare né però nello stesso tempo squalificarsi questa è è la sprezzatura nel senso che è appunto questo eh come dire no? Un concetto che poi in Spagna verrà tradotto con desemboltura quando verrà fatta la prima traduzione no? La desemboltura eh ed è quell'atteggiamento appunto no? Di eh appunto di come come ci ha detto lui no? Che non si veda che non sia né marcatamente evidente una forma di affettazione no? Di come dire no? Una persona affettata vuol dire una persona artefatta no? E si vedono si vedono gli artifici del suo comportamento e nello stesso tempo però invece è un comportamento un atteggiamento un modo di porsi ma questo soprattutto e questo secondo me è l'aspetto bello nei rapporti intersoggettivi cioè non è tanto purtroppo poi storicamente l'opera ha dato origine a tante interpretazioni eccetera no? Che sono anche fuorvianti per certi temi e fuorviate per certi però quello che lui vuole dire in fondo in realtà lo troviamo nell'etica Nicomachea di Aristotele eh cioè ha a che fare con i nostri rapporti interpersonali eh la sprezzatura è questa appunto capacità allenata ripeto che nasce dal rispetto per l'altro e dal rispetto di sé ed è secondo me uno dei come dire dei motivi per cui l'opera ancora oggi è degna di essere conosciuta studiata apprezzata eccetera io credo che questa sia la prima cosa la seconda è l'altra parola è la grazia che cos'è allora la grazia allora la grazia rimanda certamente eh allora per capire che cos'è guardate che cos'è chi è l'ingrato l'ing che chi è un ingrato un ingrato è uno che non ha grazia cioè perché non riconosce non ha forma di riconoscenza non riconosce che gli è stato fatto un favore l'ingrato è questo no è uno che non riconosce è un mancato riconoscimento che cos'è la grazia invece è la riconoscenza è la caris è la riconoscenza è come dire no la eh aver ricevuto un favore e restituire un favore ed è come dire no è quello appunto che è vediamo nel eh rappresentato benissimo nel ritratto appunto di Baldassar Castiglione no da Raffaello è la facilitas difficilis come si diceva no anche nella retorica insomma è la facilitas difficilis è la difficoltà che viene vinta e allora nel platonismo cristiano di Baldassar Castiglione la grazia è una anche è una virtù morale la grazia perché è una virtù morale perché come dire è una virtù che tiene conto dell'altro e che come dire si relaziona con l'altro in virtù appunto cioè in rapporto al fatto che ha ricevuto che qualcuno ha ricevuto e restituisce e guardate che questo è un altro elemento un altro pilastro di questa appunto urgenza necessità no di dare nuovi fondamenti alla civiltà che era appunto la civiltà moderna il rispetto appunto a quella medievale allora il buon giudicio il buon giudicio è appunto la come dire è un concetto abbastanza indeterminato eh non è ben definito è come dire no è un mezzo per come dire il buon giudizio è un medium un mezzo che ci serve per avvicinarci ad avere per conservare sempre una prospettiva universale di non perderci come dire no nel gretto particolare nella grettezza del proprio orto diciamo così il buon giudicio è questo respiro no molto bello molto profondo molto ampio no eh che è a fare un uso sapiente della ragione questo è il buon giudizio fare un uso sapiente della ragione scegliere la giusta misura di comportamento questo è il buon giudizio allora guardate che bella idea di uomo che c'è dietro no adesso è chiaro parliamo di civiltà delle corti parliamo di cortigiano un mondo che non c'è più no insomma quindi quello va bene in sé è concluso però diceva il mio professore di letteratura italiana il professor ferroni che adesso è professore emerito all'università della sapienza che il libro di Baldassar Castiglioni il cortigiano ci aiuta a capire chi e come siamo divenuti cioè è un libro che ci aiuta a ricostruire ci dà una coscienza storica e ci aiuta a capire come siamo arrivati all'oggi e come siamo oggi e dove magari possiamo aver sbagliato come diceva anche inizialmente Stefano no allora questo è un libro in cui si crede profondamente nella come dire no nella è chiaro che una prospettiva che è aristocratica ci mancherebbe qui parliamo di nobili non è che insomma voglio dire no in una prospettiva così però si crede profondamente che sia possibile che l'uomo moderno svincolato ormai dalla metafisica come dire no dove in un certo qual modo un uomo calato con i piedi per terra in qualche modo un principio di mondani della mondanità no quest'uomo che si è ripigliato il mondo in qualche modo ecco quest'uomo è moderno perché appunto è un uomo che tiene conto dell'altro perché vive in una civiltà e in una società associata e allora il self control l'understandment la nonchalance eccetera tutte queste queste virtù qua diciamo così no tutte queste virtù virtù insomma queste modalità di comportamento chiamiamole così perché la parola virtù può essere un po' equivoca da questo punto di vista però diciamo è un uomo che attraverso questo si pone in una relazione di rispetto e di comprensione dell'altro cioè la nostra modernità guardando il libro di Bardassar Castiglione ci conferma che ci siamo come dire che abbiamo cercato un nuovo inizio a partire proprio dal nostro essere uomini da essere uomini ritrovati che ci siamo ritrovati e che abbiamo grazie agli studi a umanità cioè alla riscoperta dei classici eccetera eccetera tutto quello che sappiamo che riguarda il nostro umanesimo e poi rinascimento abbiamo praticamente come dire ritrovato ecco ci siamo ritrovati ci siamo ritrovati dove? nel microcosmo della corte dove chiaramente c'è la relazione col principe di cui si parla appunto nel quarto libro cioè chiaro in un mondo che ormai quello è in sé concluso ecco non è che voglio fare nostalgie capito come rispetto al mondo della cortigianeria però questo è secondo me un'opera appunto perché è un'opera mondo perché è un'opera che sta a fondamento del mondo moderno da questo punto di vista perché ci siamo ritrovati perché come dire abbiamo cerchiamo una come dire un vivere pacifico uno stare insieme un ritrovarci e non allora anche il dialogo è una forma di mediazione di conflitto dialogare vuol dire mediare i conflitti vuol dire non arrivare allo scontro all'omicidio all'assassinio no? ma vuol dire invece appunto cercare in qualche modo di trovare i punti di contatto per un vivere pacifico e allora questo secondo me è l'aspetto bellissimo no? cioè di questo di quest'opera capolavoro il fatto che eh ci siamo in qualche modo no? è un'età che comincia questa età moderna quindi con una conversione in fondo dal cielo alla terra no? come era stato prima nel medioevo invece no? prima l'universale adesso l'individuale come è appunto è stata e però appunto la a partire proprio da questo tanto che nel nel corso del dell'opera eh sì è vero che il cortigiano deve essere nobile colto vabbè tutte le cose che potete immaginare no? che rimandano appunto ai parametri che tutti conosciamo però in realtà c'è per esempio la condanna della guerra perché no? eppure Baldassar Castiglione era un uomo d'armi ed era figlio di un uomo d'armi per dire no? perché la condanna della guerra? ecco questo per esempio e lui ammette eh avevo trovato il punto chissà se lo trovo aspettate un attimo vediamo se lo trovo eh ci avevo un punto lui ammette la guerra certamente l'ammette ma eh soltanto in tre casi vediamo ecco l'avevo messo qua eh un secondo solo però per riflettere su questo allora eccolo l'ammette soltanto in tre soli casi la guerra è legittima solo se per difesa per abbattere le tirannidi e quindi liberare i popoli che sono soggetti alla tirannide per affrancare le popolazioni che languono ischiavitù di stranieri oppressori e per assicurare loro un governo più mite quindi c'è il netto rifiuto da parte di Baldassare Castiglione della guerra condotta a scopi di sopraffazione eh e si fa certamente è chiaro che si fa portavoce di un come dire di un militarismo non offensivo diciamo così no? D'altra parte come d'altra parte anche Aristotele l'aveva scritto nel libro della politica non è che insomma ecco no? Quindi eh e così questo vale per la giustizia per le leggi eh le leggi non possono essere vendicative no? la giustizia eh bisogna mirare invece alla difesa della società alla correzione dei malvagi pensate la correzione dei malvagi quindi già ci abbiamo dietro no? Vedete no? Ecco questa è come dire si stanno buttando le basi di quella società che poi sarà appunto la società d'antico regime come dicevamo all'inizio insomma no? E dove appunto la il cortigiano diventa appunto l'esemplare umano ecco questo è quello che ha fatto Baldassar Cassidione con quest'opera che sarebbe bello ecco magari riprenderla in mano leggerla a qualche punto qualche passaggio perché è veramente bella no? Però è e allora ecco il cortigiano è non è quella figuretta come dire dell'aristocratico come giustamente poi giustamente come poi nei secoli è stato interpretato eh quindi di un rinascimento posticcio artificioso fittizio eccetera no? C'è il cortigiano è colui che vive nella corte che è il fulcro della vita pubblica che si muove intorno al potere al potere ed è quella corte che è modello di civiltà questo è chiaramente è ovvio in uno statuto che è uno statuto aristocratico è ovvio insomma quindi questo per noi oggi è lontanissimo no? Ma c'è però appunto questo principio della mondanità di stare con i piedi per terra che è l'elemento secondo me decisamente innovativo di quest'opera perché perché la Badassar Castiglione crede e questo è un altro elemento grande bello di modernità nell'educazione multilaterale come si dice no? Cioè l'educazione multilaterale è quell'educazione che riguarda l'arte la filosofia la la stessa ginnastica no? Quindi l'attività fisica le scienze ma anche crede anche nella riviscienza del sentimento che è un'altra cosa bellissima cioè il fatto che il sentimento ha dei diritti no? Che sono i diritti di effusione cioè di manifestazione e questo è bellissimo perché ripone l'uomo rimette l'uomo al centro del mondo creato quell'uomo che è Faber del suo destino quest'uomo qua quest'uomo qua e allora la la vera arte del 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 cortigiano dove sta? Nel celare l'arte nel celare l'artificio come in quel quadro da cui siamo partiti in questa quella che era appunto eh la negligenzia diligence no? Cioè quella apparente che sembra così negligenza ma che in realtà invece no? Nasce da una profonda e accorta diligenza allora questo mi avvio veramente alla conclusione però questo dialogo è secondo me eh ancora oggi ecco ci offre tanti motivi di riflessione tanti veramente tanti e e ci ci porta appunto alle origini del moderno ecco questa è una di quelle opere che stanno alle origini del moderno insieme all'Orlando Furioso insieme al principe di Machiavelli chiaramente sono quelle opere che stanno lì all'origine che sono state oggetto di eh polemiche insomma vi ricordo che alla fine del Cinquecento il cortegiano è andato all'indice eh nel mille e cinque e novanta è stato messo all'indice dei libri poebili non è che insomma voglio dire un'opera che insomma c'ha avuto poi tutta una storia poi è stato tolto poi è rimesso e insomma ecco e poi abbiamo sentito quello che diceva De Sanctis insomma questa idea di un rinascimento di corte di una cortigianeria che diventa di una corte che diventa luogo dell'intrigo della finzione delle maschere eh ma questo certo certamente poi sarà così nei secoli almeno nel Settecento insomma no però in origine eh questa era l'idea di un nuovo inizio allora quello che veramente secondo me ecco dobbiamo considerare è proprio questo che c'è quella che si chiama tecnicamente una scepsi no? Cioè una controllo critico da parte di Bartelsar Castiglione sugli oggetti della conoscenza senza cadere mai nella tentazione di una conclusione definitiva cioè io credo che alla fine il corteggiano sia moderno anche perché è un'opera aperta nel senso che è un'opera che non chiude non chiude come effettivamente di fatto non chiude perché alla fine c'è tutto questo elogio bellissimo della della diciamo del il vero amore no? di cui parla Bembo alla fine che è desiderio di vera bellezza no? Questo e chiaramente dietro c'è sta il platonismo di Ficino insomma soprattutto il neoplatonismo fiorentino insomma no? Questa ricerca l'anima che ritrova appunto nel mondo la bellezza l'ordine la proporzione l'armonia che si riflette appunto nelle nostre relazioni nelle relazioni tra il cortigiano e il principe e che appunto è come dire no? regola la vita civile ecco questa secondo me è la ancora oggi la validità di Baldassar Castiglione e del cortegiano ecco seguiti ecco l'anima